Dal miglior grano della nostra terra e da gesti semplici nascono i nostri prodotti Cetarad, i tesori di Canusium, i taralli che conservano il gusto della tradizione di un'antica ricetta Il segreto, il metodo, l'amore per il buono Cetarad, il gusto della tradizione Cetarad, garantisco io Il tesori di Canusium.com